Coach, si va a giocare la seconda gara della Champions, hai detto sarà molto molto dura davanti a tantissimi spettatori contro Belchatov. Immaginatevi quello che succede o quello che è successo a Macerato quando è venuto a giocare qui al Palapanini, quello che è successo a Trento, quello che è successo alle squadre che sono scese in campo ai Palapanini quando Modena era al completo, quando Modena ha giocato da Modena, per cui sarà una partita dove loro saranno straordinariamente determinati, una partita complicata ma proprio per questo bellissima da giocare. Modena l'anno scorso si è fermata contro Ancara, quest'anno dove può arrivare? Il limite ce lo poniamo noi, siamo noi che ci poniamo il limite, allora se ce lo vogliamo porre poniamocelo, io voglio andare fino in fondo.